Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati! Probabilmente in questo video vedrete capare... capare... Probabilmente in questo video vedrete cambiare i miei capelli ogni 3 secondi perché ho caldo, quindi non so dove mettermeli, per non fare un ennesimo video con i capelli legati, perché se no dopo sei sciatta di qua di là... Perdonatemi, se non vuoi soffrire il caldo, allora me li tengo, anche se fanno schifo perché non li stiro, non li stiro questo caldo. Comunque, dopo il video haul dell'altro ieri, ho GiniDiol dedicato interamente a quella che è la cura della propria pelle, del proprio viso. Perché, banale a dirlo ragazze, ma è la sacrosanta verità, perdonate, magari sentite il ventilatore in sottofondo, non credo sia una roba insopportabile, però sì, è il ventilatore. Ricordatevi che prima di qualsiasi trucco, prima di andare da Sephora e spendere centinaia e centinaia di euro, la cosa fondamentale e importante è prendersi cura della propria pelle, non è una fase fatta. A me nessuno mi paga per dire queste cose, è una cosa che penso davvero, d'altronde spesso e volentieri mi dite che io ho una bella pelle, ok? A parte che ho un po' disidratata e secca, ma è proprio secondo me una questione proprio interna, cioè adesso marcia dentro, la scherza parte è anche l'alimentazione, quanto uno beve che determina anche la pelle. Poi ci sono dei fattori fisiologici o comunque, come si dice, genetici, genetici. Io sono serissima, anche se sto facendo come al solito un po' la scupidina, è importantissimo ragazzi, cioè perché sennò non ci sarà mai fondotinta che sarà bello sulla vostra pelle, se non me ne prendete cura. Ovviamente non mi riferisco a chi ha problematiche gravi o semi gravi, tipo acne, che poverine, purtroppo non ci possono fare nulla, eh. Quindi non vediamo del marcio che non c'è nelle mie parole. Iniziamo subito, vi mostro i prodotti che mi ha inviato YesStyle. Sapete che ogni mese YesStyle mi manda un bel pacco, con prodotti, poi a seconda, una volta su cinque, una volta su otto, una volta su quattro, sono i selezionati del mese, quelli più adatti a questo mese, quelli più votati e recensiti da chi acquista su YesStyle. Partiamo dal primo prodotto. Il primo prodotto è quello che onestamente più mi ha ispirata, e più ho detto wow, se questo cosa funziona deve essere proprio il prodotto del secolo. e parliamo di questo qui, che è della marca MidiPill, spero si pronuncia così. Allora, io ora ve lo vorrei fare anche vedere, infatti mi sa che mi alzerò a me legherò i capelli, e me lo vado ad applicare, me lo applico, io ho già la pelle pulita ovviamente. È fatto così, sono 150 ml e serve a 3.000 cose. Innanzitutto è un detergente, diciamo, che rimuove il trucco. È idratante, migliora la grana della pelle, la pulisce a fondo, è adatto a pelli anche sensibili, quindi è apparentemente dalla descrizione un prodotto bello aggressivo, tosto, però dice che è adatto anche a chi ha una pelle secca, delicata. Si mette sul viso e fa le bolle, le classiche bolle, insomma, che sono abituate a vedere ultimamente un po' tutte le maschere. La consistenza è questa, tipo gelatinosa, non è, credevo fosse più denso a vederlo, va, diciamo così. Baccolo. Come vedete già sta facendo le bollicine, sta diventando bianco. Adoro questo tipo di prodotti, adoro. Come vedete ha cambiato consistenza, colore, sento tipo un solletichino sul viso, sapete quando, quella sensazione di bollicine che scoppiano. Infatti, in altre parti, mi fai il solletichino mi protetto. Ora vi faccio vedere un altro paio di prodotti e mi va da risciacquare, la tengo un paio a 35 minuti, non di più. Il prodotto è questo, della marca Autoplum, spero si pronunci così, Autoplum, scusate. Ed è la ML Lotion, che è una crema viso e corpo, infatti c'è una quantità alta per essere solo crema, ma se non sbaglio sono 200 ml, la vediamo. È questa. Ed è una crema idratante, ma non è una crema idratante comune, perché promette un'idratazione a lungo. Nel senso, sì che ti idrata lì per lì, tipo come quando fate una maschera che vi sentite super idratate e rimpolpate, ma dopo due ore fondamentalmente parliamoci chiaro. Due ore magari no, ma magari già il giorno dopo. Questo invece promette appunto di dare un'idratazione a lungo termine, quindi praticamente tipo a rilascio graduare, come le medicine, no? Quindi sono molto curiosa di provarla, anche per il corpo, magari d'estate, abbronzandosi, la pelle diventa rinsecchita, e quindi questo potrebbe aiutare. Altro prodotto, questa volta parliamo di Neogen. Sono dei patch che si chiamano Aclear Aid, Aid, insomma questi, Intensive Blemish Care. Ci sono all'interno ben 24 patch, 12 da 12 mm e 12 da 10 mm, in modo tale da poter utilizzare la forma più adatta al brufolo o alla macchia in questione, perché questi sono dei patch che promettono di lenire i rossori causati dai brufoli, di conseguenza anche andare a curare il brufolo, o le macchie rosse, le vari rossori d'irritazione, sono dei patch tondi che vanno applicati sulla zona interessata, quindi non è una maschera che va messa sotto il viso, che se avete una macchia rossa qua, ve lo mettete qua, c'è un brufolo in fronte, che vedete, mettete un patch in fronte, un patch sulla macchia, sulla guancia, e quindi sì, questi io non sono soggetta a rossori particolari causati da brufoli, acne, eccetera, eccetera, ma ogni tanto anche a me uno o due brufoli al mese mi esce, soprattutto in vista del ciclo, quindi da tenere sempre a portata di mano. Ora mi lascio a fare il viso, eccomi ragazzi, et voilà, ma sbaglio o mi vedo schiarita? Ma schiarita in senso positivo, a parte qui la gote rossa che ho la pelle talmente sensibile che è anche solo lo strusciarmi dall'asciugamano mia rossa, ma adoro, cioè mi sento la pelle detersa, ma non quando tira, che ti rinsecchisce la pelle, quando il prodotto è aggressivo, ma morbida, non dico idratata, ma comunque morbida, che non tira, però proprio pulita, totalmente pulita, che mi vedo schiarita in faccia, adoro. Ultimi due prodotti sono questo ragazzi, questo è quello che mi ispira più di tutto, di tutti, oddio no, anche il primo, quello alle bolle, mi ispirano tutti, comunque è uno di quelli che proprio più appena ho letto, anche perché all'interno ha solo un ingrediente, che è esattamente, mi sono scordato, ho letto, sono una carina, artemisia, estratto di artemisia, a principio di estratto di artemisia, c'è scritto 100%, quindi è solo artemisia, adoro che, ASMR, è di vetro, la confezione è di vetro, sono 100, un sacco di ml, 160 ml, questo prodotto ragazze mie, allora, una consistenza sembra acquosa, ma non è proprio acquosissima, è leggermente acquosa verso il denso, non so come spiegare, adoro. Questo prodotto ha una serie di benefici per la nostra pelle, serve sempre, di base è idratante, l'idratazione è importante ragazzi, quindi è un paspartout da tenere, soprattutto in questo periodo, perché lenisce, rinfresca, idrata, agisce sui rossori, e se voi andate a leggere sul sito, vi lascio tutti i link qui sotto, a cosa serve questo prodotto? Serve a 3.500 cose, non avremo neanche il tempo di elencarle tutte, perché veramente, essendo poi anche puro, senza odù, senza profumi, senza silico, è proprio 100% bio, bio, questo è caroide approved, serve a un milione di cose, serve anche, ipoteficamente, per le scottature, è antibatterico, è antimicotico, è anti qualsiasi cosa, cioè questo è il sacro gral della skincare da avere. Questo prodotto qua, che è un siero, diciamo che si chiama ampoule, in Corea si porta, si porta, usano molto questi prodotti che chiamano ampoule, ampolla, credo sia, che sia uno steppa oltre il siero, quindi ancora più di un siero, ancora più concentrato di un siero, ancora più fibre di un siero, ed è fatto così, ed è al propoli, non è 100% propoli però, ci sono diversi estratti, dentro il propoli è al secondo posto, al primo posto c'è una certa ottinga cordata extract, non so cosa sia, perdonatemi, e poi vabbè, acqua, e altri vedo extract, 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 corallina officinal extract, insomma, beh che dire, il mio inglese è sempre colchè, senza fragranze, senza oli essenziali, insomma, è veramente figo, sembra veramente figo, fondamentalmente, essenzialmente, questo è un antiossidante, quindi rigenera, ripara la pelle, ma, insomma, magari mi sto suggestionando, però, poi dopo vedrò nel montaggio, mi vedo la pelle meglio di quando iniziate il video, solo applicando questi due prodotti, ora mi applico anche questo qui, vado ad applicare solo una goccia per lato, perché non conosco bene il, come dire, la reazione che può avere la mia pelle, quindi ce ne vado a mettere 3 litri, vado a mettere qua, e in questo momento qui lavora per me, è un antiossidante, ovviamente ora sto facendo questa skin care molto approssimativa, qui in video con voi solitamente sono più accorta, cioè i miei pezzini, le mie cose, faccio tutto con calma, e beh, ragazzi, che dire, questi erano i prodotti di questo mese, vi lascio il link qua sotto che vi mandano ai prodotti, il codice sconto è cambiato, perché anche una ragazza me l'aveva chiesto, ma non me l'accetta, non me l'accetta, l'avevano cambiato senza neanche comunicarlo, ho dovuto chiedere io, e niente, spero che vi abbia fatto almeno un po' compagnia, ciao!